A Rampello, dalle pagine del Corriere, ha lanciato questo appello agli uomini e donne di buona volontà per intervenire su questa città e rifondarla. L'appello di Rampello è una delle cose su cui ovviamente si può lavorare, perché è giusto che le persone che hanno delle buone idee, ma è inutile fare un appello, si chiamano quelli che tu vuoi che vengano al tuo appello, piuttosto che aspettare, anche la Moratti aveva fatto una lettera al Corriere dicendo che chi deve dire qualcosa la venga a dire, trovo sbagliato aspettare che qualcuno si muova per fare delle proposte. Occorre stabilire chi ha la capacità di fare proposte e quindi a questo affidare una serie di cose più semplici del mondo. L'Expo potrebbe essere un trionfo e sarà un fallimento per mancanza di teste, la mancanza di persone che hanno un'idea in mente. Io sono stato chiamato da stanca, sono andato, gli ho portato Toscani e poi ho visto che hanno chiamato Francesca Colombo e Alessandra Borghese, quindi è stato molto utile che noi andassimo perché la scelta di due persone che si occupano della cultura dell'Expo fosse fatta non sulla base di un vulcano di proposte, ma sulla base, non so, vedremo. Quindi c'è secondo me una sottovalutazione di quello che è importante, che è un'idea precisa su cui poi si muove, non è che ci voglia moltissimo. Quindi si potrebbero fare molte cose, ma se uno continua a fare appelli non fa assolutamente niente. Ma una tua proposta? Una proposta? Quando tornerò a Milano la farò. Non è inutile fare delle proposte. Tutto quello che io ho fatto da quando ero assessore è stato compiuto da me finché c'ero e dopo che sono andato via l'hanno compiuto gli altri partendo dalle mie proposte. Dal futurismo, alla scapigliatura, ai samurai, alla mossa di Hopper, quindi vuol dire che bastava, occorre proprio a qualcuno che le pensi queste cose. Siccome qui non c'è nessuno che pensa, non è difficile realizzare le cose, è difficile avere in mente un'idea che poi diventi realtà. per cui posso anche distribuire altre idee, già l'ho fatto, quindi l'attività culturale di Milano che si è svolta in questo anno e mezzo è la continuazione delle mie proposte. Dal punto di vista musicale con mito, dal punto di vista delle mostre con la continuazione delle mostre, dal punto di vista dell'attività estiva con la bella estate, per cui io ci sono lo stesso anche se non sono più qui. Invece le tue prospettive future, questo spettacolo come nasce? Lo spettacolo è una presenza a Milano attraverso una serie di incontri al Teatro Ciac dal 10 al 15 novembre in cui io racconto quello che ho pensato e quello che penso e questo ovviamente può essere uno stimolo e comunque può essere anche un compiacimento di vedere che molte delle cose che uno ha in mente o vorrebbe realizzare qualcuno è lì per proporle o per tentare di realizzarle.